Dopo aver parlato della granita presentiamo questa settimana invece un'altra bevanda regina del chiosco e cioè il sels e il limone. Come si prepara? La bevanda più richiesta in estate Sels, limone e sale. Allora sels, sale abbondante, tocca la sete e il limone. Una bevanda che è di seta? La bevanda dissetante. E reintroduce anche i sali minerati? Sì, da forza dicono. Quindi ciò che si perde col sudore con il sels e il limone? Il sels e il limone, sì. E poi c'è una vasta varietà di sciroppo, limone, mandarino verde, mandarino rosso, fragola, tamarindo. Il tamarindo molto digestivo, fatto con l'estratto di radici digestivo, va molto bene, fragola, l'abbiamo detto, ananas e basta. Il sels e il limone rimane comunque il re? La bevanda principale, la bevanda principale è la sels e il limone, sì.